Molto spesso leggendo dei commenti su internet capita di trovare frasi di questo tipo papà un giorno ci rivedremo, riferendosi ad un papà defunto, oppure mamma un giorno ci rivedremo sicuramente saremo tutti felici del cielo. Ora queste sono cose comprensibili perché naturalmente ogni è umano a sperare appunto di poter rivedere un giorno i propri defunti, ma sono cose sulle quali la chiesa può assicurarci, cioè un cristiano può essere sicuro che un giorno rivedrà i propri cari. Ho già spiegato in altri video che questo non è garantito. Perché non è garantito? Perché noi sappiamo che non c'è il paradiso per tutti, questo va detto molto chiaro perché ormai ci sono tanti sacerdoti sviati, eretici, che sostengono il contrario, cioè che il paradiso sia per tutti, ma capite finché lo dice un non credente che si basa naturalmente su immaginazioni possiamo anche accettarlo, però i cristiani devono basarsi sulla dottrina e abbiamo visto chiaramente già in altri video che ci sarà un giudizio. Per ogni anima alla morte c'è il famoso giudizio particolare che il destino dell'anima è di fatto triplice dopo la sua morte. Si può andare direttamente all'inferno, Dio non voglia, quindi se si muore in peccato mortale, condizione eterna, di lontananza da Dio e di grande sofferenza, oppure si va in purgatorio, che è quella condizione appunto in cui muoiono le persone che non sono morte in peccato mortale e quindi che sconteranno comunque delle pene di purificazione e poi c'è chi invece va a merito suo direttamente in paradiso, forse pochissime persone, ma questo non lo sappiamo. Però la Chiesa ha mai detto quella persona è andata all'inferno quella persona è andata in paradiso? In realtà no, perché non lo sappiamo. Lo leggiamo dalla stessa parabola famosa del ricco Epulone, capitolo 16 di Luca, che ho già letto, versete 19-31. Vediamo che c'è quel grande divario, quella grande lontananza tra chi sta in paradiso e chi sta all'inferno e non è possibile per volontà divina comunicare o permettere che chi è all'altro mondo possa comunicare a chi è sulla terra. E dunque la Chiesa che cosa ci ha insegnato sempre? Che noi abbiamo la certezza che siano in paradiso soltanto i santi, soltanto le persone che sono state canonizzate ufficialmente dalla Chiesa. La Chiesa ispirata in maniera indefettibile, quindi priva di errori dallo Spirito Santo, ci ha comunicato una schiera immensa di santi, di persone di cui siamo certi che possiamo rivolgerci a loro per impetrare grazie, in quanto che essi sono sicuramente in paradiso. Di tutte le altre persone non siamo certi. Pertanto hanno un fondamento quelle frasi pur sentimentalmente comprensibili del papà ci rivedremo in cielo? No, non ce l'hanno e sono anche potenzialmente pericolose. Quindi tutti quei sacerdoti che nel momento del funerale vanno dicendo preghiamo l'anima che è già finita in cielo, ma cosa stai dicendo? Non ne abbiamo alcuna testimonianza, soprattutto per il fatto che spesso lo dicono di persone che non hanno fatto assolutamente la vita cristiana. Tutti quanti in cielo, vanno tutti in paradiso. Noi sappiamo che così non è. Da cristiani abbiamo il dovere di dire agli altri che così non è, non perché dobbiamo fare i brutti e cattivi, ma perché dobbiamo aiutare Gesù Cristo a salvare le anime. solo se abbiamo la coscienza del fatto che c'è un giudizio e che quindi si può finire all'inferno, bisogna stare attenti a non finire all'inferno attraverso la dottrina e seguire la volontà di Dio, allora solo così potremo salvarci. Diversamente se il misericordismo vince, Satana è contentissimo. È contentissimo perché naturalmente egli è in grado di portare più anime possibile all'inferno, facendo credere loro purtroppo attraverso la chiesa di sacerdoti sviati, che l'inferno non esiste o che comunque, come ebbe a modo a dire, sappiamo chi, l'inferno è vuoto, io voglio credere che l'inferno è vuoto, beh tieniti la tua opinione personale, ma naturalmente non è la dottrina della fede. Peccato che un Papa dovrebbe insegnare strettamente per dovere grave la dottrina della fede e non sue opinioni personali. Vabbè, chiusa la parentesi, noi abbiamo detto che esiste un triplice possibile destino, uno dei due è un destino parziale, perché quello del purgatorio, cioè sappiamo che le anime sante del purgatorio, prima o poi, al più tardi a giudizio universale, magari tanto tempo passerà, vanno comunque in paradiso. Soffrono, noi possiamo anticipare e ridurre le nostre pene del purgatorio, l'ho detto già in altri video, attraverso le opere di Elemosina, ma anche attraverso l'offerta delle nostre sofferenze. Non dobbiamo andare a cercare le sofferenze, ma dobbiamo pensare che ciò che noi patiamo può essere offerto per noi stessi, per ridurre le nostre pene del purgatorio, ma soprattutto per le anime dei difunti che ne hanno tanto bisogno. Quindi offrire appunto le messe, soprattutto l'impedrazione della messa, del sacrificio eucaristico, ma anche le nostre sofferenze, i nostri digiuni, per esempio, è grande opera di carità spirituale. Mi dedicherò poi in un altro video all'analisi delle opere di misericordia spirituale, ma ecco adesso volevo parlare di questo fatto. Quindi il fatto che noi si dica che siamo certi del destino delle anime dei difunti è quanto mai fuorviante e pericoloso. Allora, noi dobbiamo pensare che vi sarà una sofferenza, cioè per intenderci, io che sono un padre e che riesco a salvarmi, avrò una sofferenza perché mio figlio invece magari, faccio un esempio, non viene con me in paradiso? Molto probabilmente no. E questo sembrerebbe una cosa assolutamente, come si dice, inumana, disumana, che un padre non soffra perché il figlio non si è salvato. Invece probabilmente no, diciamo probabilmente perché non sappiamo perché i beati del paradiso vivono in una felicità che è intaccabile, perché hanno il tutto, hanno la felicità completa di fronte a Dio. Pertanto, per assurdo, una cosa che noi con i mezzi umani non riusciamo a comprendere, non soffrono probabilmente del fatto che i propri cari non hanno avuto il merito, perché di merito si tratta, di finire in paradiso come loro. Quindi capite che è assolutamente falso, è fuorviante, ripeto, credere è comprensibile umanamente ed è difficile anche naturalmente andare dalla persona a cui è morto un genitore o una persona stretta o un amico e dire non siamo certi che lo vedrai, però in qualche modo la Chiesa lo deve fare. La Chiesa deve spiegare, e purtroppo non lo fa più, che non siamo certi assolutamente. Non siamo certi, non dobbiamo presumere della nostra salvezza, non dobbiamo fare come gli eretici luterani, appunto, che presumono che tutti vadano in paradiso, perché questo è il mezzo migliore per finire all'inferno, il lassismo luterano. Ma allo stesso tempo non dobbiamo né presumere, ma neanche disperare. Ne parlerò però in un video specifico. Tra i tanti peccati contro lo Spirito Santo c'è da una parte la presunzione di salvarsi senza meriti, ed è quello che inventò Lutero, ed è quello che inventano tanti sacerdoti cattolici, ma in realtà luterani, sui pulpiti delle nostre Chiese. Quando sentite dire, quindi tutti si salveranno, Dio perdona tutti, sapete che avete di fronte una persona che non voglio definire già subito come eretico, ma che non sta facendo il suo mestiere, se vogliamo dirla in maniera. Non sta facendo il mestiere che Cristo gli ha dato, quindi quello di educare alla vera dottrina, non alle... e qui mi censuro perché essendo cristiano non posso dire queste parolacce, ma mi vengono in mente. Ok? Quindi questo è il discorso di base. Noi non possiamo presumere una salvezza senza meriti, e quindi per questo motivo non abbiamo alcuna certezza, è probabilmente giusto così, che qualcuno si sia salvato e qualcun altro no. Tranne che per i santi. La Chiesa non fa i dannati, ci è sempre stato detto, perché la Chiesa non ha coscienza di nessuno che si sia sicuramente dannato, neanche di Hitler, Mussolini, di Stalin, dei più grandi delinquenti della storia, abbiamo certezza che siano all'inferno, perché potrebbero essersi pentiti, come ho spiegato all'ultimo momento, e potrebbero quindi aver chiesto la misericordia a Dio, il quale può fare del suo tesoro ciò che vuole, come ci dice della parabola. Quindi non sono io a dover chiedere conto a voi di ciò che do agli operai della mia vigna, vi ricordate? Quindi concludendo abbiamo detto non si può disperare della propria salvezza, perché disperare che Dio ci salva attraverso la grazia è peccato grave, è offesa contro lo Spirito Santo, ma allo stesso tempo non si può neanche presumere di salvarsi senza meriti. Guardate come la Chiesa ha sempre tenuto questo equilibrio tra la grazia, che comunque è gratuita, perché ripeto, cari luterani, non avete capito niente della dottrina cattolica, tutti i cattolici sanno, quelli formati dalla dottrina della Chiesa, che noi siamo salvi per meriti di Cristo, cioè non è gratuita, non siamo pelagiane. La grazia è ottenuta dai meriti di Cristo, però dobbiamo meritarla, questa è la differenza tra le eresie luterane e la dottrina cattolica. Quella grazia che Cristo ci ha ottenuto, altrimenti andavamo tutti all'inferno in virtù del peccato originale, se Cristo non moriva sulla croce e risuscitava per noi, quindi spargendo sulla croce il suo sangue, lui vittima innocente. Quindi noi all'inferno andavamo tutti quanti, il paradiso non esisteva ancora, però non possiamo accostarci a questi meriti di grazia se non lo facciamo attraverso una conversione di vita, attraverso l'accostarsi ai sacramenti, attraverso i metodi che Cristo ha scelto avrà ben diritto di fare ciò che vuole per salvarci, quindi attraverso la chiesa, la vita di grazia, il rifugire dal peccato mortale. Quindi mai disperare della salvezza, ma mai presumere di salvarsi senza meriti. In ciò capiamo dunque come ragionare sul discorso del destino dei nostri cari defunti, che ripeto è comprensibile pensare che possano, che vogliamo, che saranno appunto con noi salvi in paradiso, ma non possiamo presumerla, proprio perché non conosciamo, solo Dio conosce qual era la condizione della loro anima al momento della morte. Potremmo presumere che qualcuno è stato dannato perché ci stava sulle scatole, in realtà magari è in paradiso già o è in purgatorio, potremmo al contrario presumere erroneamente che qualcuno è in purgatorio e in realtà è all'inferno. Di questo non ci deve interessare. E concludo con le mie povere parole di stare molto attenti per favore a tutte quelle persone che sono sicuramente guidate dal demonio e non da Cristo, che ci dicono che loro sono in grado di parlare con i defunti. Ci sono delle persone all'interno della chiesa che hanno avuto questi doni di grazia. Pensiamo solo a Natuzza Evolo, la cui santità ancora non è stata riconosciuta, ma prima o poi sarà riconosciuta. Quella persona aveva dei frutti di fede, quindi si capisce che il proprio dono, datole da Cristo, di poter interloquire con i defunti dell'anima del purgatorio, ebbe sempre uno scopo positivo. Però dobbiamo guardarci invece dai maghi, dagli stregoni. Questi sono guidati dal principe di questo mondo e non da Gesù Cristo nostro Signore. Quindi per favore guardiamoci da coloro di quali spesso anche attraverso poi richieste di lauti e pagamenti. Ci sono i cianciaroni, ma ci sono anche quelli che veramente fanno arti magiche, esistono le arti magiche, su chiaramente disposizione del demonio. Quelle persone che cercano, i medium e via dicendo, un contatto con i defunti, un cristiano le deve assolutamente fuggire. Le deve fuggire perché sono non nelle mani di Dio, ma sono nelle mani del demonio. E le conseguenze sulla nostra anima, che possono essere anche fino a conseguenze estreme, perché chi partecipa a questi incontri può anche rischiare davvero di essere posseduto, quindi controllato appunto dal principe di questo mondo, sono comunque gravi. Dunque per evitare di avere conseguenze, questo ci racconta la Chiesa, se i sacerdoti facessero il loro mestiere dovrebbero raccontare. Non sto inventando teorie medievali oscurantiste. So che qualche sacerdote, leggendo, guardando questo video, se lo guarda potrebbe fare un risolino dicendo io sono un cristiano adulto a queste cose, non ci credo, no, perché io sono un sacerdote del nuovo modernismo, magari anche tanti nella mia città che riderebbero insomma per queste affermazioni, ma sono la dottrina della Chiesa. Guardarsi dalle opere del demonio che purtroppo vanno anche attraverso appunto questi stregoni, medium e delinquenti vari appunto che utilizzano poteri che purtroppo non gli sono stati dati da Dio ma dal demonio e per quello esistono gli esorcisti. Purtroppo gli esorcisti arrivano su un mandato del vescovo quando delle persone appunto sono state, sono provate appunto che sono possedute, una possessione diabolica che è per fortuna un caso piuttosto estremo. Noi dobbiamo naturalmente guardarci soprattutto della tentazione ordinaria, dell'opera ordinaria del demonio che è quella della tentazione che ci porta poi al peccato mortale. Pertanto ecco dico però attenzione perché appunto a partecipare a queste sorti di messe, di incontri con il diavolo per suscitare appunto le anime di difunti è quanto mai pericoloso, comprensibile dal punto di vista umano, voler avere un rapporto appunto sentire che cosa ci dicono i nostri difunti ma i frutti li vediamo, i frutti dannosi. L'opera di Natuzza Evolo non la metterei all'interno di questo perché Natuzza Evolo per tutta la sua vita non volle nulla per sé e soprattutto dimostrò che l'opera che stava compiendo ha uno scopo preciso quello innanzitutto di ricordare la gente che esiste l'inferno, che esiste il purgatorio ci sono tanti riferimenti anche anime dannate che ebbero contatto con lei ma soprattutto che bisogna appunto adoperarsi per la salvezza della propria anima e quindi avere in qualche modo un riferimento anche se è straordinario, è concesso da Dio, Natuzza come a pochi altri, di poter parlare con le anime ha uno scopo, quindi Dio non fa nulla per caso, ha lo scopo di metterci in guardia, guardate che però al di là di queste cose straordinarie noi abbiamo la scrittura, ci basta la scrittura quei passi che dimostrano chiaramente che esiste la condanna eterna e che esistono i modi appunto per sfuggirvi attraverso il fare la volontà divina su tutti il capitolo 16 del Vangelo di Luca